Le politiche sociali sono chiamate ad affrontare tempi molto complessi negli anni davanti a noi. Infatti sono almeno quattro le grandi sfide che il nostro sistema di welfare sarà chiamato a fronteggiare. La prima è la denatalità. In Italia si fanno troppi pochi bambini e bisogna aiutare le famiglie a fare più figli. La seconda riguarda il lavoro. Abbiamo una crescita della disoccupazione e non è chiaro se questa crescita si attenerà nei prossimi anni. Ragionevolmente almeno nel medio periodo avremo problemi notevoli anche di disoccupazione. Il terzo problema è la povertà. La povertà è cresciuta ulteriormente con la pandemia ma già negli scorsi anni, lo scorso decennio progressivamente sta aumentando. Il quarto problema è l'invecchiamento. Siamo una società sempre più anziana e questo porta una sfida per le politiche sociali, quella dell'assistenza ai sempre più numerosi anziani note sufficienti. In uno scenario così complesso cosa significa innovare il welfare? Significa molto semplicemente, più semplicemente a dirsi poi a farsi no, adattare l'offerta alle trasformazioni della domanda. Questo vuol dire, per esempio, nel caso degli anziani non note sufficienti, fino a 10-20 anni fa la maggioranza degli anziani note sufficienti erano persone che avevano limitazioni funzionali ad alzarsi, vestirsi. Adesso la maggioranza di quelli gravi sono persone che hanno problemi di demenza, che quindi magari si muovono benissimo, ma hanno problemi cognitivi e quindi non li tieni. Per innovare il sistema degli anziani, delle politiche per gli anziani, vuol dire ad esempio appunto costruire strutture residenziali e servizi domiciliari che siano in grado di adattarsi a questo cambiamento della domanda. Ma vediamola da un altro punto di vista. De natalità. Qui, come dire, l'adattamento dell'offerta, l'innovazione è richiesta da un periodo molto più lungo, cioè l'Italia ha sempre avuto un problema di pochi esili nido, cioè di poco sostegno alle famiglie che vogliono insieme, soprattutto alle madri, lavorare e avere dei figli. Adesso però, come dire, la richiesta di innovazione in questo senso non è più nuova, ma con i tassi di così bassa natalità con i quali oggi ci confrontiamo, non è più sostenibile non fornire risposte adeguate. Quindi, innovare il welfare significa adattare l'offerta alle trasformazioni della domanda e anche in una società che ha tutti questi fenomeni di fragilità, come dire, superare anche, diciamo, disattenzioni e carenze che ormai ci trasciniamo da tempo. Ecco, quindi davanti a questa sfida, all'innovazione nelle varie declinazioni che le ho dato, sarà un punto crescente nei prossimi anni. Quali sono le tensioni, le tensioni, diciamo, del nostro sistema di welfare? Io ve ne propongo tre, che secondo me sono tre intese come, diciamo, come contrapposizioni di due concetti. La prima è la contrapposizione tra tradizione e innovazione. Tutti i sistemi di politica pubblica, così come tutti i sistemi di politica sociali, hanno una tendenza inerziale a ripetere se stessi, quindi a non modificare le caratteristiche dell'offerta. Quindi, quello che in teoria sembra facile, dobbiamo innovare, nella pratica poi risulta molto più difficile. Questo è il primo punto. Su questo punto, però, vorrei dire che paradossalmente questa è una delle poche eredità buone della pandemia, perché tutti gli studi ci dimostrano che i sistemi di politica pubblica sono meno resistenti all'innovazione dopo grandi crisi, perché la grande crisi ti mette sempre in discussione, ti fa abbassare un po' le difese che magari prima avevi. Quindi è vero che c'è una tensione inevitabile tra tradizione e innovazione, ma è anche vero che se c'è un momento storico nel quale si può provare, su cui si aprono più spazi per l'innovazione, è quello successivo a una grande crisi. La seconda è una tensione antica, quella tra servizio alla persona e trasferimenti monetari. Servizio alla persona e trasferimenti monetari sono i due interventi, come dire, nei quali si compongono le politiche sociali. In Italia tradizionalmente si punta di più sui trasferimenti monetari, cioè si punta piuttosto che fare servizi domiciliari per gli anziani, si dà alla famiglia l'indennità di accompagnamento, cioè un contributo economico e poi vedi, veditela tu. Ecco, e questo vale anche per il sostegno alla povertà, per il sostegno alle famiglie con figli, eccetera. D'altra parte, come dire, tutti gli studi ci dicono che abbiamo bisogno di sviluppare il sistema dei servizi alla persona, perché solo attraverso il sistema dei servizi alla persona gli utenti possono provare a modificare la propria condizione di vita, cioè i trasferimenti monetari ti servono a rispondere a qualche bisogno. Poi però è solo nell'interazione con un operatore di un servizio, che tu figlia di un Alzheimer puoi capire come organizzare meglio la cosa, che tu, nell'interazione col tuo educatore al nido, tu ti sviluppi le tue capacità cognitive e di relazione, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di servizio alla persona. La terza tensione riguarda la spesa, cioè austerità o tutela pubblica. Noi arriviamo da una lunga fase storica, cosiddetta di austerità, in cui i fondi per le politiche sociali erano molto, molto limitati e si diceva, guardate, non possiamo fare di più perché in Italia c'è il debito pubblico, eccetera. Con la pandemia siamo entrati nella fase che io chiamo della tutela pubblica, cioè si sono molto allentati i cordoni della borsa e il motto non è stato più austerità, ma è stato non lasciamo nessuno indietro, spendiamo, rispondiamo ai bisogni sociali. Cosa sarà nei prossimi anni? Noi in questo momento, quando voi probabilmente vedrete questo video, avrete, siamo ancora appunto nel post pandemia, abbiamo la sensazione che ci sia spesa pubblica per sviluppare il welfare sempre e comunque non sarà così. Tra poco tempo ricominceranno i problemi legati alla necessità di contenere le risorse pubbliche, quindi la tensione tra austerità e tutela pubblica ce la ritroveremo tra poco davanti a noi. Ecco, quindi abbiamo visto che le politiche sociali hanno bisogno di innovazione e per innovarsi devono confrontarsi con alcune tensioni. Per finire io vorrei dire qualcosa per definire in maniera un pochino più fine che cos'è l'innovazione nel welfare, nelle politiche sociali. L'innovazione, sostanzialmente ci sono due tipi di innovazione, innovazione di prodotto e innovazione di processo. Teniamo sempre a mente queste. L'innovazione di prodotto vuol dire faccio un nuovo prodotto, faccio un nuovo servizio, sviluppo dei, come dire, faccio dei nuovi servizi per i bambini, per i poveri. L'innovazione di processo vuol dire organizzo diversamente i servizi, le politiche che ho. E molto spesso innovare non significa fare cose nuove. Attenzione, significa organizzare meglio le politiche che ho. Quindi teniamo sempre a mente innovazione queste due cose. Prodotto, nuovi servizi, processo, riorganizzare. E nel fare l'innovazione, perché il terzo settore ha più spazio? Per tanti motivi, ma ne vorrei come dire citare uno solo. Perché l'ente pubblico ha un'altra priorità. La priorità dell'ente pubblico non è innovare, è l'universalismo, per quanto ci si arrivi. L'ente pubblico deve dare risposte a tutte le persone in condizione di bisogno in un certo territorio. Quindi ha meno spazio per provare a costruire cose nuove, perché la sua priorità giorno per giorno è rispondere a tutti quelli che hanno bisogno. Il terzo settore non ha questo obbligo, diciamo, di tutela dei diritti sociali e quindi ha più spazio per l'universalismo e per l'innovazione. Quindi priorità dell'ente pubblico, universalismo, per il terzo settore più spazio per l'innovazione. Però, ed è il mio ultimo punto, soprattutto insomma chi è arrivato su questo sito avrà sempre sentito parlare molto di innovazione. Attenzione, chiariamoci. Molto spesso andiamo a convegni in cui ci vengono raccontati progetti innovativi che poi rimangono lì, che poi nessun altro riesce a replicare, che poi non hanno un impatto. La qualità dell'innovazione si misura sulla sua capacità di modificare il profilo complessivo delle politiche sociali. Quindi qualunque innovazione, qualunque innovazione io faccio in un piccolo servizio, in una certa città, in un certo contesto, io dal punto di vista delle politiche sociali la misuro sotto tre criteri. Il primo se è sostenibile, cioè se riesci ad andare avanti nel tempo. Il secondo se è replicabile, cioè se altri la riescono a fare. Se la riesci a fare solo in quel contesto perché magari siete particolarmente bravi o particolarmente finanziati, non va bene. Ma soprattutto il terzo, e quello più importante dal punto di vista delle politiche sociali, l'innovazione per servire alle politiche sociali deve essere scalabile. Cioè deve essere quel progetto innovativo che io ho fatto in un piccolo contesto, in una determinata realtà, devo, come dire, deve darmi idee, io devo poterlo replicare sull'insieme delle politiche sociali di una certa regione, di un certo comune. Questo è fondamentale. L'innovazione deve essere scalabile perché noi non abbiamo bisogno solo e tanto di singole esperienze innovative interessanti. Abbiamo bisogno che queste singole esperienze innovative interessanti diano spunti, consentano di trasformare le politiche sociali del nostro paese per rispondere alle complicate sfide che ho menzionato all'inizio di questo intervento. Grazie. 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 Grazie.